Ok ragazzi, bentornati in un nuovo video. È da tanto tempo che non parlo di argomenti legati alla mia vita personale, cosa sto migliorando, su cosa sto lavorando e alcuni di voi sentivano un po' la mancanza di questi discorsi, mi hanno scritto e ho letto e ho detto in effetti avete ragione, è abbastanza tempo che non parlo, non mi fermo un attimo a parlare di cosa sto facendo anche a livello di apprendimento nella mia vita e la verità è che forse ho evitato l'argomento perché sono argomenti nuovi, nuovi per me, quindi anche io li stavo scoprendo, una nuova fase della mia vita quindi dividerò la spiegazione di oggi in tre parti, i miglioramenti che sto cercando di fare nell'area lavorativa, miglioramenti che sto cercando di fare nell'area personale e spirituale ok? Quindi prima di iniziare ci tengo a dire che le cose che condividerò oggi sono anche abbastanza delicate quindi diciamo dire queste cose su internet a volte ti sottopone il giudizio degli altri è una cosa che faccio sapendo che tutte le volte che ho fatto questo tipo di discorsi c'è magari qualcuno che può guardare questo video e dire ah potrei anch'io leggere quel libro, potrei anch'io cercare di imparare questa cosa quindi in italiano diremmo il gioco vale la candela ovvero il rischio a cui mi sottopongo di essere giudicato o anche insultato da qualche persona che arriva a caso a vedere questo video vale la candela ovvero vale l'opportunità di magari passare a qualcuno di voi un'idea, una conoscenza utile per cercare insieme di continuare a migliorare che è un po' l'obiettivo principale insieme a aiutarvi con l'italiano di questo canale ok? direi che possiamo iniziare con il reparto lavorativo perché è più facile da spiegare reparto lavorativo ciò che stiamo facendo io, Isa, tutta la nostra squadra, collaboratori veramente tutti è italiano per la vita italiano per la vita, tutti i nostri sforzi, le nostre energie sono veramente in questo progetto, in questa piattaforma è stata una scelta che ho fatto apposta quindi tutte le altre idee che avevo le ho riunite dentro italiano per la vita per offrire la piattaforma migliore possibile per imparare l'italiano e quindi stiamo facendo questo, è molto semplice al di fuori di ovviamente cercare di continuare a migliorare e mantenere la qualità anche dei contenuti gratuiti, creare nuovi regali sia su youtube, facebook, instagram, le varie piattaforme insomma e quindi queste due cose, migliorare l'italiano per la vita e continuare a dare materiale gratuito anche per chi non può permettersi di partecipare alla piattaforma così che continuiamo anche a aiutare veramente tutti ok? quindi area lavorativa è questo direi che adesso possiamo passare alla prossima area è qualcosa di cui non ho mai parlato nell'ultimo anno è da un anno che intensivamente sto studiando come investire come investire? Sono una persona che ama, diciamo, apprezza molto il capire l'importanza del lungo termine nella vita, no? per esempio le scelte che fai oggi hanno una grande influenza sul, diciamo, la tua vita in futuro, no? io ero 28 anni ma so che se Dio vuole avrò 38 anni, 48 anni, 58 anni, eccetera il tempo passerà e come in tutte le cose come in italiano automatico, nella salute, nelle amicizie, nel matrimonio, tutto quanto le cose che fai oggi possono contribuire a un tuo futuro migliore anche nell'area dei soldi, quindi delle finanze le cose che fai oggi possono contribuire a un tuo futuro migliore quindi sto veramente studiando tanto in quest'area, a lato ovviamente dopo aver fatto il lavoro e tutto il resto leggo e studio riguardo come investire, gestire meglio il denaro non sono un consulente finanziario quindi non andrò nei dettagli nel dirti cosa fare esattamente ma ti dico che in pratica il mio approccio è quello che ho usato per sviluppare l'italiano automatico e tutte le altre aree cerco alcune persone che ammiro, che penso di ammirare almeno poiché non conosciamo mai una persona totalmente una persona può dire quello che vuole e poi magari essere tutt'altro quindi magari sto leggendo il libro di una persona che penso di ammirare ma in realtà poi è una persona che non ammirerei però per quello che conosco di queste persone tendo ad ammirare le loro idee almeno nell'area degli investimenti quindi ho scelto persone come Warren Buffett, Charlie Munger, T. Rowe Price, John Templeton ce ne sono varie, varie veramente di queste persone che ho selezionato sono principalmente americani compro i loro libri, leggo, studio, vedo il loro stile di investimento e la cosa principale che tutti condividono è che fanno una combinazione di investimenti tra investire in imprese quindi azioni sicure a lungo termine quindi grandi imprese investono anche in vari tipi di obbligazioni fondi fondi che ti danno esposizione a tante imprese e quindi questa è un'area che mi sta affascinando perché diciamo che e poi andiamo nel lato spirituale no? ma ragazzi per farvi la storia breve io prima di conoscere Isa mi definivo ateo perché credevo in Dio ma allo stesso tempo non volevo dargli un nome non sapevo in quale Dio credere eccetera dopo aver conosciuto Isa e avendo letto la Bibbia e tutto ho avuto una trasformazione personale ora mi ritengo totalmente cristiano credo quindi in Cristo quindi Gesù è una cosa che non ho mai condiviso con voi negli ultimi anni perché è una cosa molto delicata anche io ero in questa fase di scoperta di me stesso perché ragazzi veramente ero la persona che diceva tipo a Isa ma come fai a credere in una persona che tipo nella storia della Bibbia ha diciamo moltiplicato i panni e queste cose non aveva nessun senso logico per me quindi ho avuto proprio una trasformazione a livello spirituale in quest'area e quindi ora sono cristiano credo e sta cambiando la mia vita in tanti tanti modi ma qual è il discorso? anche nella Bibbia c'è una storia che spiega come c'era un padrone che aveva lasciato una moneta a un chiamiamolo un lavoratore chiamiamolo un lavoratore ha lasciato delle monete a ogni lavoratore e ogni lavoratore aveva fatto una cosa diversa con queste monete un lavoratore aveva preso la moneta e l'aveva messa sotto terra un lavoratore aveva preso la moneta e l'aveva trasformata in 5 e un lavoratore aveva preso la moneta e l'aveva trasformata in 10 il padrone torna e dice al lavoratore che ha trasformato la moneta in 5 bravo ottimo lavoro poi arriva il lavoratore che ha trasformato la moneta in 10 e gli dice bravo fantastico lavoro hai moltiplicato no quello che ti ho dato hai fatto lavorare i soldi per moltiplicarli quindi come investirli no e poi arriva dal lavoratore che ha messo la moneta sotto terra e quel lavoratore gli ha dato questa spiegazione gli ha detto guarda capo io so che sei una persona seria cattiva e se io avessi perso i tuoi soldi ti saresti arrabbiato quindi ho deciso di nasconderli metterli sotto terra ecco qua i tuoi soldi come erano prima e il capo gli dice una cosa che potrebbe sembrare ingiusta ai nostri occhi che è togliete la moneta a questo lavoratore che l'ha nascosta e non l'ha usata per moltiplicarla e datela al lavoratore che l'ha moltiplicata e ne ha ora 10 e uno dice ma non è giusto poverino com'è possibile che la persona che ha meno gli stai togliendo quello che ha e la dai al lavoratore che ha 10 che è riuscito già a moltiplicarla e questa storia mi ha fatto molto pensare che nella vita un po' tutto è così no perché se abbiamo paura di usare le nostre abilità i nostri talenti e li nascondiamo e non li facciamo lavorare saranno sempre quelli e addirittura si rovinano col tempo e anche spariscono se invece uno li usa e li moltiplica è una cosa secondo me che come esseri umani ci fa sentire molto meglio no e insomma la storia biblica potrebbe essere una spiegazione di un'ora quindi non entrerò troppo nei dettagli in quello il discorso qual è? investire è una cosa che tutti dovremmo fare per il nostro futuro quindi ci sono migliaia di modi differenti per investire e vi dico quindi per abbreviare il discorso i tre motivi principali che mi sono insegnato per ricordarmi di dirveli tre lezioni principali tre motivi principali per cui sto studiando come investire gestire meglio le mie finanze per il lungo termine allora uno è per la libertà finanziaria viviamo in un mondo dove per avere libertà diciamo nella nostra giornata spesso questo è connesso alla libertà che abbiamo anche finanziaria se non sappiamo gestire bene le nostre risorse quindi i nostri soldi farli lavorare per noi investirli nel modo giusto su noi stessi prima di tutto per migliorarci e avere quindi poi abilità utili per il mondo diventa difficile la vita può diventare molto complessa si possono avere molti problemi anche a livello nel proprio matrimonio con i propri amici famiglia tutto per questa cosa che c'è nel mondo non si può evitare sono i soldi ok quello che ho capito io è che i soldi sono praticamente qualcosa che ti viene dato in cambio di un servizio che tu dai agli altri ok quindi rendiamo il concetto molto semplice io perché pagherei un dottore diecimila euro per farmi un trapianto al cuore perché senza quel trapianto al cuore muoio il dottore perché riceverà questi diecimila euro per cui questo dottore ha passato dieci anni anche di più dodici anni a studiare a laurearsi a praticare poi approfondire e a laurearsi ancora di più per capire l'esatto funzionamento del corpo umano saper mettere in pratica le sue conoscenze per salvare la vita alle persone ok ho fatto esempio del dottore così generalmente né e poi ovviamente ogni dottore è pagato in modo diverso in base al paese non entriamo in questi discorsi non è questo il punto il discorso qual è una persona spesso riceve di più perché ha passato del tempo e ha messo energia studio sforzo per avere delle abilità utili agli altri esseri umani ok almeno questo succede in una società libera ma detto ciò una volta che capisci questo capisci che è una cosa molto diciamo oltre alla tua libertà personale finanziaria per la tua famiglia tu avere come obiettivo diciamo moltiplicare i tuoi talenti per poter essere più utile al mondo è anche un'attività molto generosa infatti se non puoi nemmeno aiutare te stesso come puoi pensare di cominciare a poter aiutare gli altri aiutare altre persone eccetera e vi faccio un esempio molto pratico e semplice non per vantarmi o per far sembrare uuuh Alberto che bravo no 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 calma è solo perché è l'esempio che posso fare su me stesso che è quello che ho fatto ma quando avevo 16 anni ho fatto delle scelte invece di uscire magari in discoteca come facevano i miei amici ogni fine settimana quello che facevo è stato diciamo cominciare a rimanere in casa a leggere e leggevo tantissimi libri e imparavo lingue quella scelta di investire quel tempo invece di bevande alcoliche e perdite di tempo spesso investirlo in migliorare me stesso imparare cose nuove e attenzione non è che non era divertente io amavo fare quello mi divertivo tantissimo mi divertivo di più che magari andare in discoteca e quindi ho preso una passione nell'apprendere questa passione che avevo per l'apprendere ha cominciato a darmi abilità conoscenze nelle varie aree del mondo digitale che mi hanno permesso poi di creare un lavoro praticamente da zero con semplicemente lo sforzo l'energia delle mie conoscenze no e questo mi sta permettendo ora di avere anche una libertà finanziaria nella mia vita e poter anche aiutare altre persone se necessario questa è una grande motivazione per me ok quindi queste due cose libertà per te la tua famiglia generosità quindi provare aiutare gli altri quando possibile e non solo in termini di soldi ma anche di tempo di supporto ispirazione sono delle cose veramente che trasformeranno il tuo modo di vedere le tue settimane mesi e anni e ne sto parlando appunto perché vi volevo aggiornare sulle aree della mia vita su cui sto lavorando quindi sono io il primo che sta lavorando su queste cose sono lontano dall'essere fantastico sto lavorando ogni giorno su queste abilità quindi investire pensare a lungo termine e farlo nel modo giusto anche quindi non solo per me ma per la mia futura famiglia e le persone che vorrò aiutare questa è una grande motivazione ragazzi perché se pensate solo a voi stessi la vita può diventare molto senza senso veramente se invece pensi sia te stesso ovviamente io ci tengo a dire la prima persona a cui penso sono io sarà le cose che potrò fare con isa con la mia famiglia e se avrò figli o cani eccetera le esperienze che potrò fare ma poi vedrete che al di fuori di queste esperienze si comincia a creare una voglia di aiutare il prossimo no anche persone che non conosci e per chi di voi l'ha già fatto sa benissimo che una delle parti che ti dà più soddisfazione nella vita è aiutare gli altri quindi aiutare gli altri aiutare anche persone magari che non possono darti nulla in cambio spesso no quindi lì proverai sensazioni che non possono nemmeno spiegarti ma è importantissimo ed è la ragione anche per cui nel 2012 2013 ho deciso poi di creare italiano automatico quindi dieci anni fa perché mi ricordo che avevo fatto dei video per aiutare chi imparava l'italiano online e avevo cominciato a ricevere dei messaggi delle mail e non mi sono mai sentito come leggendo quei messaggi mi ricordo di una persona che mi aveva scritto alberto hai consigliato un video in un video un libro ho letto quel libro poi ne ho letti altri cinque sta cambiando la mia vita in famiglia il mio lavoro e ho detto wow mi era venuta la pelle d'oca mi ricordo che stavo correndo avevo 19 anni adesso ne ho 29 sto invecchiando e stavo correndo ho letto quel messaggio mi sono fermato quindi avevo l'adrenalina della corsa della corsa quindi adrenalina della corsa più ho letto quel messaggio mi sembrava di volare ho detto wow quindi più che iniziare italiano automatico diciamo che mi ha fatto continuare italiano automatico per così tanto tempo anche specialmente nei primi sette anni dove veramente era una lotta a cercare di capire anche come far funzionare questo progetto a livello anche finanziario no era veramente una lotta perché avevo tante idee ma provavi una cosa e non funzionava provavi un'altra insomma veramente tante sfide ma quella motivazione alla base di dire sto facendo una cosa secondo me bella utile che può aiutare altre persone o insomma in tutti i posti del mondo è una cosa che ti dà molta ti dà molta motivazione forza di volontà e la puoi connettere quindi a quella voglia di imparare anche come gestire le tue finanze quindi non solo per te stesso perché alcuni potrebbero dire ah io abbastanza va bene così non bisogna essere avari ovvero di volere 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 di più no 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 non è per volere volere di più solo per quello è per mantenere questa voglia di crescere e poi sapere che più riesci a creare più ha anche puoi aiutare altre persone ma detto ciò chiudiamo il capitolo del reparto finanziario e per chi di voi è curioso vi dico quello che io sto facendo personalmente è investire in imprese quindi le chiamano azioni ma io le chiamo imprese perché se le chiami azioni sembra un po quasi un gioco ma no io sto investendo in imprese che hanno una lunga storia e che tendono a pagare dividendi i dividendi sono praticamente un'impresa guadagna qualcosa e a fine anno o varie volte durante l'anno decide o pago un po delle persone che hanno investito in me pago una parte dei profitti e li ridò alle persone che hanno investito e ok quindi quelli sono i dividendi una parte dei profitti che sono distribuiti ai soci ragazzi mi fermo se no entriamo in una in un video finanziario ma quello è il modo in cui sto investendo in questo momento e poi passiamo al lato spirituale che è l'altra area dove ho avuto praticamente il più grande il più grande cambiamento e apprendimento e vi dico la verità forse una delle ragioni per cui era da un po di tempo che non facevo un video sullo specifico riguardo a cosa stavo imparando è che quando cominci a credere hai una diciamo una nuova fede no in qualcosa è molto vulnerabile questa fede e forse non ero pronto negli ultimi due tre anni di condividere più cose riguardo a questo perché insomma ci sono tante persone che non sono aperte mentalmente quindi invece di rispettare le tue scelte ti insultano insomma fanno commenti stupidi un po l'essere umano un po questa caratteristica a volte e quindi essendo una cosa molto delicata per me non solo delicata nel senso che mi sarei potuto offendere ma anche una cosa che è molto privata ma non privata nel senso che deve essere privata penso che abbiate capito è una cosa comunque personale ognuno la vive in un modo diverso e quindi per me essendo anche una cosa nuova stavo cercando anche di capirmi di studiare di leggo la bibbia ogni giorno e faccio tante altre cose per rafforzare approfondire quest'area della mia vita e quindi non ero pronto adesso comincio a essere pronto quindi penso che sia il momento di condividere più cose anche a riguardo e vi dico ho segnato qua alcune cose praticamente che mi sta aiutando a cambiare questa fede no l'essere cristiano allora qui per farvi un riassunto le cose che mi sta aiutando a migliorare migliorare come marito so già che quello che sto facendo il lavoro che sto facendo adesso mi aiuterà a essere un padre migliore migliore essere umano in generale aiutare gli altri spesso dio ti da quella forza quella volontà di aiutare un'altra persona quando tu come essere umano saresti diciamo diresti ehi chi me chi me lo fa fare di aiutare lui sono qui anch'io pieno di problemi no come esseri umani noi abbiamo questa cosa e sono sono pieno di problemi io lui ha dei problemi cavoli suoi no c'è questa cosa come essere umano e è una cosa su cui bisogna lottare perché uno dei principi fondamentali almeno di quelli che cerco di seguire nella mia fede è amatevi l'uno con l'altro come io ho amato voi no e questo è un principio molto molto forte del cristianesimo insomma quindi ti aiuta in questi momenti dove tu come essere umano magari anche per la tua paura di non risolvere i tuoi problemi sei quasi bloccato non riesci aiutare l'altro poi resistere alle sfide ai problemi e responsabilità della vita quindi sono una persona molto ansiosa e ho visto che veramente ragazzi per fortuna è arrivata isa e la sua famiglia nella mia vita e ho avuto questa trasformazione e ora credo fortemente in Gesù e in Dio perché da solo starei diventando matto veramente tra tra il fatto che siamo andati in Romania dall'Italia tanti problemi lavorativi l'apertura delle imprese adesso vogliamo andare via dalla Romania andremo probabilmente in Brasile e poi lo stress personale le responsabilità di avere adesso più di otto dieci collaboratori solo qualche anno fa ero da solo insomma più di duemila studenti sono tante tante cose da gestire allo stesso tempo io voglio mantenere la mia salute a continuare a leggere a migliorare investire tante cose ragazzi i contenuti da produrre che non si fermano mai quindi insomma la lista è infinita e praticamente senza una roccia che rende la mia vita ferma su questa roccia che ora per me è Dio sarei veramente in una difficoltà impressionante avrei giornate che sarebbero mille volte peggio di quello che possono essere e anche nel mio rapporto con isa a volte non ho la forza in quel momento di chiedere magari scusa o di dire che ho sbagliato perché quando sei nervoso no cioè nella tua testa come essere umano a volte non riesci veramente è molto difficile quindi mi metto lì chiudo gli occhi dico Dio dammi la forza per per chiedere scusa o insomma fare quello che devo fare o smettere di essere ansioso di preoccuparmi insomma e questo è molto utile quindi tirando fuori le tre lezioni principali che ho imparato allora uno è che Dio è l'unica certezza quindi prima cercavo di avere vi faccio l'esempio di Alberto ateo e Alberto cristiano no questo è utile anche per chi di voi è ancora ateo per chi di voi è già cristiano o per chi di voi è nato cristiano non è mai stato ateo o per chi di voi è ateo poi diventato cristiano insomma è interessante secondo me che voi possiate vedere perché io fino a 23 anni 24 23 24 quasi veramente non ci credevo proprio zero proprio zero quindi sono nato in una famiglia cattolica in Italia ma non avevo un diciamo una relazione con la mia fede cioè non c'era era una cosa meccanica in Italia cattolica puramente cattolica di abitudinaria e che dovevo andare a messa eccetera poi avevo smesso di farlo verso i miei 13 14 anni 15 anni pian piano avevo smesso di farlo andavo solo a Natale così con la mia famiglia ma non avevo mai avuto un rapporto diretto no con Dio e praticamente quello che è cambiato per me da prima prima mettevo la mia fiducia nella sicurezza che viene dalle cose materiali quindi potevano essere soldi sul conto bancario insomma sicurezza dei beni materiali prima la mettevo lì se avevo dei soldi sul conto mi sentivo più sicuro se se vedevo che non c'erano i soldi mi sentivo meno sicuro ora quello che è cambiato è che Dio è il centro di tutto è l'unica certezza per me quindi quella è la cosa che non fallirà mai per me i soldi si sono lì mi aiutano a farmi sentire più sicuro per gestire tutto quello che devo gestire più la mia vita però non sono più il mio Dio questa è la differenza cioè la mia sicurezza non è più legata a queste cose materiali o le cose fisiche anche se io sto bene sempre ma la mia sicurezza viene da qualcos'altro no il mio creatore e niente questa è una cosa molto interessante per me perché mi ricordo quando non ci credevo assolutamente che ero sempre alla ricerca di qualcosa che mi desse pace e ora non ho più quella necessità sembra che questo mi staranno la pace che ho sempre cercato quindi mi ha cambiato totalmente la vita e la seconda cosa è l'umiltà ovvero del sapere che non ho il controllo su tutto questo anche viene dalla mia fede prima volevo controllare tutto volevo ero costantemente a pensare che dovevo controllare tutto avere tutto a posto dappertutto e che io potevo fare quello no e in qualsiasi cosa e quello creava uno stress assurdo perché è impossibile controllare tutto quindi ora ho invece un lato di grande umiltà del sapere posso fare quello che voglio posso fare quello che voglio se non è il proposito che Dio ha per la mia vita non succederà quindi c'è un lato di umiltà prima era l'arroganza di dire non ho bisogno di non ho bisogno di nessun Dio io come essere umano mi creo da solo sono faccio tutto da solo i miei sforzi creeranno tutto nella mia vita e ora invece c'è quel lato di umiltà di dire ehi sono un semplice essere umano ok per chi di voi non lo sa nella fede cristiana noi siamo creati in diciamo immagine e somiglianza di Dio però diciamo che noi senza Dio non siamo nulla quindi in pratica ti dà questa umiltà di capire che sì hai un controllo sulla tua vita puoi sforzarti impegnarti e fare di tutto per migliorarla però se non è la sua volontà non succederà quello che vuoi non succederà se non è anche la sua volontà no quindi questo mi ha dato grande umiltà grande pace interiore e mi sento molto meglio e soprattutto sapendo che non ho il controllo di tutto mai potrò avere il controllo di tutto potrei essere qui in questo momento cade un aereo qua sopra questo edificio no non potevo evitarlo cioè non sono cose che puoi evitare terremoto crolla l'edificio insomma ragazzi è una cosa molto bella da sapere che c'è questa umiltà di base che non devi e non puoi controllare tutto ok la lezione numero 3 invece è un nuovo proposito vita eterna e conseguenze per le cose sbagliate che facciamo in questo mondo quindi integrità onestà e amore a questa ragazzi è forse la più importante insieme alla prima che è praticamente cambia tutto quando sai che le azioni che tu fai su questa terra saranno giudicate dopo verranno giudicate le cose che facciamo qui giuste sbagliate verranno giudicate dopo io a volte guardavo tipo otto anni fa sette anni fa video su youtube di alcune madri che perdonavano l'assassino dei propri figli tipo cose assurde dicevo c'era un assassino e questa madre era davanti al giudice che perdonava questo assassino davanti a lui tipo lo perdonava io ho detto ma com'è possibile cioè da dove viene questa capacità di perdonare o di fare cose di questo tipo e sapendo che non sa neanche se avrà giustizia quanto tempo stare in prigione non è ancora uscito il verdetto ovvero il risultato finale che il giudice dà non lo sapeva ancora insomma cose che non riuscivo a capire ma ora le capisco molto meglio perché se sei cristiano credi fortemente e io credo fortemente che praticamente quello che facciamo di giusto e sbagliato su questa terra verrà giudicato dopo verrà giudicato ci saranno conseguenze quindi c'è il perdono il perdono la grazia del signore tutto questo è una realtà ma è anche dio è un dio giusto secondo me è un dio giusto e quindi praticamente le cose che facciamo qui sulla terra varranno qualcosa se uno si impegna per essere un buon essere umano e aiutare gli altri e fare proprio meglio per avere una vita degna integra onesta con amore e tutto questo sarà importante non è una cosa che viene ignorata ok questi sforzi qua se no non avrebbe senso detto ciò ragazzi era una cosa molto difficile per me da condividere questa perché so che è una cosa molto delicata voi siete da tutte le parti del mondo ci tengo a dire che io rispetto ogni religione rispetto ogni persona quindi ragazzi non vedete questo video come io che voglia convincervi di qualcosa sto condividendo quello in cui credo fortemente vi dico che come mi sento io non c'è paragone come mi sentivo prima però ecco se se siete interessati a migliorarvi e sentite che vi manca qualcosa come era il mio caso a 23 anni e io stavo cercando questo qualcosa l'ho trovato nella mia fede adesso mi sento una persona molto più completa quindi è molto importante questo lato della nostra vita spirituale non deve essere ignorato secondo me e deve essere preso con la mente aperta rispettando gli altri non porta da nessuna parte giudicarsi l'uno con l'altro dicendo ah no tu quello in cui credi non serve a niente è sbagliato assolutamente no io ho amici di ogni tipo di ogni credo eccetera semplicemente io cercherò di vivere la mia vita nel migliore dei modi rispettando gli altri e penso che questo è quello che io sento di fare ok ma fatemi sapere nei commenti se qualcuna di questa cosa che vi ho detto oggi non lo so vi è piaciuta o non piaciuta insomma fatemelo sapere in modo rispettoso e niente io vi incoraggio quindi a lavorare su queste due aree se avete voglia finanze quindi investire a lungo termine e secondo la vostra fede spiritualità eccetera vi renderà diciamo una persona molto più completa e più felice secondo me io vi mando un abbraccio vi ricordo di ascoltare le sette regole di italiano automatico per capire il metodo il perché io faccio anche questo tipo di video e capire veramente come imparare l'italiano in modo completo e vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nel prossimo video